Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo, è capo della Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua, mediante la parola e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli, come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno, infatti, ha mai odiato la propria carne. Anzi, la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Così anche voi. Ciascuno da parte sua ami la propria moglie, come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il marito. Beato chi teme il Signore Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai. Sarai felice e avrai ogni bene. Beato chi teme il Signore La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua messa. Beato chi teme il Signore Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Beato chi teme il Signore. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo diceva Gesù A che cosa è simile il Regno di Dio e a che cosa non posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami e disse ancora A che cosa posso paragonare il Regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina finché non fu tutta lievitata.